Da 70 anni, ogni anno, 5 milioni di persone si rivolgono all'IncaCGL per avere un sostegno concreto e gratuito. Nelle pratiche per il lavoro, la salute, la previdenza, la disabilità, l'immigrazione. I nuovi tagli proposti nella legge di stabilità mettono a rischio il nostro lavoro e quindi le tutele di tutti. Milioni di cittadini rimarrebbero senza la tutela gratuita. Te la vogliono far pagare. Aiutaci a impedirlo. Invia un tweet a Renzi. Più tagli, meno diritti. Grazie.